La Germania respinge la richiesta degli Stati Uniti di unirsi ad una missione a guida americana per difendere le navi da carico di passaggio nello stretto di Ormuz, dove transita un quinto del greggio di tutto il mondo e dove è in atto un braccio di ferro con sequestri di petroliere fra l'Iran e il resto del mondo. Lo ha confermato il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, nel giorno in cui invece il neogoverno di Boris Johnson ha detto sì. Due settimane fa Londra chiedeva solo una missione europea. La Germania la chiede ancora. Concetto ribadito da Maas, che tuttavia ha ammesso che il tema non è in agenda e ci vorrà del tempo per convincere l'Unione Europea. La Gran Bretagna tuttavia conferma la volontà di non seguire gli Stati Uniti nella politica del muro contro muro con l'Iran e di lavorare con le altre potenze europee per salvare l'accordo sul nucleare. A luglio l'Iran aveva sequestrato nello stretto una petroliera britannica per presunte violazioni, due settimane dopo quello di un'iraniana ad opera del Regno Unito a Gibraltar, perché è sospettata di consegnare petrolio al regime siriano. Nelle ultime ore l'Iran ha annunciato il sequestro di una nave cisterna irachena accusata di contrabandare Greggio.